Nella mia pagina le verdure in zucca vi presento la mia fave. Se vedete già ci sono le api in azione. Stanno impollinando le mie fave. Queste sono una parte che ho coltivato in un punto e in un'altra parte del terreno. Guardate quale fave. Sono piccole ma ora crescono. Ora vi accompagno all'altra parte dove ho altre fave. Per adesso si mantengono basse. Molti fiori. Seminate a novembre comunque. C'è chi li cima, c'è chi non li cima. Io non li cimo. Ho fatto una prova anni fa, metà cimardi e metà no. Finceramente mi sembravano che crescevano uguali. Anzi quelle che ho cimato hanno prodotto di meno. Un campo. Un campo di fave. Vi auguro una buona serata. Grazie sempre che mi seguite. Mi potete seguire pure su YouTube. Se scrivete sulla parola ricerca, le verdure in zocca. Grazie e iscrivetevi sempre nella mia pagina.